Finta per attaccante centrale. Cari attaccanti, oggi voglio farvi vedere una finta per potersi girare velocemente e fare gol. La finta consiste in un doppio tacco interno accompagnato. Il primo tacco serve per muovere ed ingannare l'avversario, mentre con il secondo vado in direzione di tiro. Ora prendi un bel pallone e provaci anche tu. Il primo tacco serve per muovere ed ingannare l'avversario, mentre con il secondo vado in direzione di